Musica 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 Cari amici di Senigallia, buonasera a tutti voi, un applauso a Bruno Di Berlizzi, non potevamo partire in maniera diversa con queste note, la dolcezza, la raffinatezza, del sax, grazie, a più tardi, ciao, buonasera cari amici giurati, ben arrivati, ben arrivati tutti voi carissimo pubblico, qui in piazzale della libertà, in questo salotto se vogliamo a cielo aperto dove alle vostre spalle il centro storico di Senigallia e davanti appunto ai vostri occhi l'elegante ratonda amare, facciamo un applauso, sapete perché? Perché tre giorni fa questo iconico edificio ha compiuto ben 91 anni di vita, tanti auguri alla Rotonda Mare e a Senigallia, 11 novembre 2023 Miss Italia, a Senigallia madrina di questa serata lei Francesca Bergesio. L'applauso per accoglierla, poi vieni da me, intanto guarda, sai questa meravigliosa un'emozione immensa veramente, sono grata a Miss Italia, alla patron Patrizia Merigliani per questo percorso stupendo. Grazie Francesca, il vostro applauso di benvenuto a Carolina Montanari. Grazie a tutti. 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione